Continuiamo ora con i nostri scenni storici. La sottomissione dei Sanniti portò a Roma in contatto diretto con la città greca di Taranto, il porto principale dell'Italia meridionale. Per difendersi dall'espansionismo romano, Taranto chiese aiuto a Pirro, re dell'Epiro, la regione storica della penisola balcanica, il quale sbarcò in Italia nel 280 e inizialmente vinse una battaglia, anche grazie all'uso degli elefanti in combattimento, a cui i romani non erano abituati. Già però dalla seconda battaglia i romani avevano imparato a contrastare gli elefanti con dei carri muniti di falce alle ruote. Alla fine i romani vinsero a Benevento nel 275 e Taranto si dovette arrendere nel 272. Reggio Calabria fu conquistata nel 270. Il dominio sull'Italia meridionale comportò per i romani lo scontro con Cartagine, città di fondazione fenicia nel golfo di Tunisi, che era diventata la principale potenza mediterranea. I cartaginesi erano chiamati punici dai romani, da qui il nome di Guerre Puniche. La prima guerra punica, 264-241 a.C., si concluse con la vittoria romana nella battaglia navale delle isole Egadi e con la conquista della Sicilia e della Sardegna, che erano prima sotto il controllo dei cartaginesi. La seconda guerra punica, 218-201, cominciò con il generale cartaginese Annibale che varcò le Alpi e invase l'Italia, conseguendo alcune vittorie. La difesa di Roma fu affidata a Quinto Fabio Massimo, che fu soprannominato il temporeggiatore, poiché usò la tattica del logoramento lento del nemico tramite una tattica di attesa e tallonamento, evitando sempre lo scontro frontale. Nel 204 un esercito con a capo Publio Cornelio Scipione sbarcò in Africa e costrinse Annibale a ritirarsi dall'Italia. Nel 202 Scipione sconfisse Annibale nella celebre battaglia di Zama e per questa vittoria fu soprannominato africano. La famiglia degli Scipioni tenne una condotta filoellenica, erano grandi sostenitori della cultura greca, per questo soprattutto l'africano venne più di una volta lo scontro con Catone e il Censore. Durante la seconda guerra punica i romani dovettero anche affrontare la Macedonia, perché il re Filippo V si era alleato con Annibale. La seconda guerra macedonica, 200-196, fu vinta dai romani grazie a Tito Quinzio Flaminino, con la battaglia di Cinocefale in Tessaglia. Nel 192 il re di Siria, Antioco III, invase la Grecia, ma nel 189 fu sconfitto a Magnesia, in Asia minore, dal fratello di Scipione africano, cioè Lucio Cornelio Scipione, che in seguita a questa vittoria fu soprannominato asiatico. Quando scese al trono di Macedonia il figlio di Filippo V, Perseo, si riaccese il conflitto. La terza guerra macedonica, 171-167, vide i greci alleati di Roma perché ostili alla dominazione macedone, e si concluse con la vittoria di Roma con l'esercito di Lucio Emilio Paolo a Pidna nel 168. Questa vittoria assicurò a Roma il controllo sulla Grecia. Il periodo che va da questa data fino al 79 a.C., con la fine della dittatura di Silla, si chiama convenzionalmente media età repubblicana. Nel 149-146 si svolse la terza guerra punica e Roma spazzò via definitivamente Cartagine, che fu distrutta ad opera dell'esercito di Cornelio Scipione Emiliano, figlio di Emilio Paolo e nipote adottivo dell'africano. Nel frattempo, nel 148-47, in seguito ad un'altra guerra, la Macedonia divenne una provincia romana. Inoltre, contemporaneamente alla distruzione di Cartagine, avvenne la distruzione di Corinto, ad opera di Lucio Mummio, poiché le città greche si erano ribellate. Con questo episodio ci fu la definitiva sottomissione della Grecia. Nel 118 a.C. era diventato re della Numidia, cioè grossomodo l'attuale Algeria, un avversario di Roma, Giugurta. Il precedente re della Numidia, cioè Massinissa, invece era stato un alleato di Roma contro Cartagine. La guerra giugurtina, cioè appunto contro Giugurta, durò dal 111 al 105 a.C. e si concluse con la vittoria di Roma ad opera di Gaio Mario, un generale di umili origini che catturò il re e durante il suo trionfo lo esibì incatenato ai romani. Parliamo adesso di Gabbi. Gabbi era una città latina, collegata a Roma dalla via Prenestina. Essa aveva un passato illustre e la sua fama era molto presente nell'immaginario collettivo di Roma. In qualche modo Gabbi è una piccola Roma, con la sua agropoli e la sua cinta muraria, e un santuario molto importante che vedremo fra poco. Connessa con Gabbi è la necropoli di Osteria dell'Osa, molto importante per la conoscenza del mondo antico nel Lazio, poiché ha restituito molte tombe, le più antiche delle quali risalgono al IX secolo, e le più recenti sono del VI secolo. Gli scavi a Gabbi sono ancora in corso. Vi partecipa l'Università di Tor Vergata di Roma. Dal 16 ottobre 2009 al 27 novembre 2009 c'è stata la terza campagna di scavo, in cui sono state previste attività didattiche e formative per gli studenti ed esercitazioni pratiche di studio dei materiali. Nell'ambito di tale progetto sono state condotte indagini stratigrafiche nell'area dell'acropoli antica, che hanno portato a notevoli avanzamenti sul piano della ricerca scientifica. Lo scavo si segnala per l'impiego metodologico delle più moderne tecniche di indagine. Il santuario di Gabbi è quello di Giunone. Del tempio vi è una fase precedente al II secolo a.C., ma poi nel II secolo ci fu un grandioso rifascimento, che portò anche alla sistemazione dell'area circostante, che divenne una piazza rettangolare chiusa su tre lati con porticati toscanici, mentre sul lato frontale fu realizzata una cavea teatrale sfruttando un declivio. Infatti, spesso i teatri sono legati ai santuari e alle divinità. Questo succede anche, per esempio, nel santuario di Palestrina, che vedremo dopo. Dunque, con questa sistemazione il tempio si trovò all'interno di un teemenos. Si definisce teemenos, che è un termine greco, uno spazio limitato, separato. Uno dei primi significati era quello di un terreno dedicato ad un dio, un recinto sacro. Negli studi contemporanei, questo termine viene appunto usato per indicare un'area sacra, chiusa o comunque delimitata, caratterizzata da tempio, ara, cioè l'altare di fronte al tempio, e da una delimitazione di qualche tipo, con entrata. Questa triade, di origine orientale e caratteristica del santuario greco-classico, si era affermato già nel corso dell'VIII secolo. In casi come questo, il termine teemenos si confonde e coincide con il termine santuario, che indica anch'esso un tempio all'interno di un'area monumentalizzata. Il tempio era un periptero sinepostico, che abbiamo già visto cosa significa, ed esastilo corinzio, cioè caratterizzato da sei colonne sulla fronte, di tipo corinzio. Diamo una ripassata veloce alla colonna corinzia. Il capitello di una colonna è detto corinzio quando è decorato con foglie, steli e fiori d'acanto. Il corinzio non è considerato un vero e proprio ordine architettonico, poiché è una variante dell'ordine ionico. Il fusto della colonna è scanalato e poggia su una base. La foto che vedete non si riferisce al tempio di Gabbi, ma è solo un esempio di capitello corinzio. Abbiamo invece detto che il porticato intorno al tempio era tuscanico. Tuscanico indica il tipo di colonne elaborato in Etruria e che risulta abbastanza simile al d'orico, che vedete nel disegno di sinistra. Dall'ordine d'orico invece si differenzia però per la presenza di una base, per il fusto liscio anziché scanalato e per le proporzioni. In Etruria il tuscanico rimase sempre il tipo più diffuso.